Salve a tutti e benvenuti su Olipitz TV Olforio tanto prima o poi viene pure Tu, su Olipitz TV Andiamo ad un'altra piccola cansocina dal titolo Wasabi, vado, uno, due, tre Wasabi, wasabi, wasabi Noi volemmo stare afora ma chissi non ci fanno sci Wasabi, 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 wasabi Ma mi volem direci tutto chissi ma perché Wasabi, 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 wasabi Chiusa in catena sarà in da casa condannata Wasabi, 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 wasabi Ma mi volem direci tutto chissi ma perché Wasabi, 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 wasabi E' passato quasi un anno e ancora non si è riparato d'anno, ho l'inganno. E' passato quasi un anno e ancora non si è riparato d'anno, ho l'inganno. E' passato quasi un anno e ancora non si è riparato d'anno, ho l'inganno. Tutto chiesto, ma perché, ma tu perché lo vuoi sapere, ma tu perché lo vuoi sapere, vuoi sapere, vuoi sapere, vuoi sapere. All LeBizTV, all for you, tanto prima o poi viene pure tu, puoi ricevere un mare, state fermate, ma quando mai, cavalloni giganti per tutti quanti. Con questo vi saluto e vi rimando alla prossima. E come sempre, All LeBizTV, all for you, tanto prima o poi viene pure tu. Arrivederci.